secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie il pronuncio double chocolate mannus parlare inglese per caso di chi parla italiano lo banna o se sei uno streamer forse i demoni sono a malta leccateci le palle godo con lo stick imagine using stick e leccavi non allora cosa vuol dire imagine getting diamond ma cazzo faccio 47 smerati al centro cosa mi metto nel culo come supposta godo godo video di ieri ci ho messo tanto ok l'ale era letto era letto tranquilla col telefono che cazzeggiava a me era venuta un po' voglia praticamente per farglielo capire e io mi sono alzato ho chiuso la porta di della cameretta io posso chiudere mia chiave no e allora ho chiusa chiave grazie i soldi di paolo hai una porta raga raga nel momento che ho chiusa chiave è sbiancata controlliamo subito no ah ma oh ma c'è no che me la mangio tutta ragazzi ma che siete passi beh david io vado a mangiare vai vai mangia non sei chiapa non sei chiapa il coach il mental coach allora che facciamo di bello oggi intanto intanto per cominciare dobbiamo fare i complimenti doverosi a chiara per la sua magistrale meravigliosa intervista ora non mi starà guardando però vabbè io comunque questa cosa la devo dire perché è stata una bellissima intervista complimenti a chiara e poi cos'altro uno spammino vi ricordo che io cos'altro non Chi è che rompe? Cazzo Non c'ha visto Il chat C'è anche tre vocelli Ok qui Non c'è niente sapete Porca Chad C'è un impostore Dove stai guardando? E' dentro la casa di Gianco Che ci sta guardando Chi è la devi al re? C'è il re Passa dalla strada No No che pelle il re no Come si permette signorina? Come si permette Sua maestà Che successo? È la sua destra Le hanno mancato Mamma mia che flemmas Io ho mancato di rispetto Cos'è che ha detto? Ha detto che due palle Il re E non ha voluto inchinarsi Beh Io da te ero voluto cercare Ignazzo C'ha del cibo Dai andiamo Spero però che ti sia servito Da lezione Bravo Teronas Bravo Teronas Fagli capire quello che ha fatto Grazie Grazie Marasciallo Grazie Lei non l'ha visto Ma ha fatto un 360 Teronas Ha fatto un 360 Sì Bravo Teronas Bravissimo Meriti la promozione Si chiama selezione naturale Aspetta 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 Li sono subito Va bene Non ci sono problemi No Nessun problema Nessun problema Tribunale Quindi lei sta costruendo il tribunale In cui noi stessi verremo processati Sì Se tu questo non lo consideri Bullismo psicologico E non so come definirlo Ma infatti Posso dirle una cosa Cioè se lei ritarda la costruzione Non ci processeranno mai È vero Tecnicamente lei può dire Ah sì un attimo Ci sono dei cavilli burocratici Non riusciamo a finire Ripetete con me La filastrocca Che ripetiamo sempre Ad ogni live Gambare Gambare Abbasso il capitalismo Sì amici Bravi Ripetete con me Sì lo so Ah no Ah ah Le ho messi nell'ender chest Ah 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 Tua madre mi fa così Godo figlio di puttana Ah 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 Mi salto di Guardali Tin 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 Guarda qua Guarda qua Com me mi